Io non posso giocare in Champions League, quindi purtroppo posso stare solo vicino alla squadra, ma non posso fare più di quello per la Champions League. Da gennaio a giugno il mio obiettivo è il campionato, io sono arrivato per arrivare primo. Ovviamente poi se arriviamo secondi o terzi va bene, però io punto per arrivare primo, mai secondo, mai terzo.